Il 16 e il 17 aprile a Castello Visconteo la quarta edizione di Fiori e Frutti. Quest'anno ci sono alcune novità. Siamo alla quarta edizione di questa manifestazione presso il Castello Visconteo. È una manifestazione organizzata dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Coldiretti e gli amici dell'Orto Botanico. Abbiamo coinvolto 38 espositori, alcuni dei quali espongono fiori a altri prodotti del territorio locale. Ci sarà un momento dedicato ai laboratori per i bambini ed è questa la novità principale perché quest'anno abbiamo deciso di dedicare i laboratori alla musica. Ci sarà poi anche un punto di ristoro grazie alla Corte dei Miracoli, che è uno dei locali pavesi, che metterà a disposizione la propria cucina per cucinare prodotti tipici del territorio. Abbiamo poi previsto all'interno di questa manifestazione anche un momento culturale dedicato ad un itinerario per le vie della città e per andare appunto a scoprire i monumenti. Potete ricevere tutte le indicazioni rispetto a questa manifestazione che vi ricordo sarà sabato e domenica di questa settimana, 16 e 17 di aprile, nel nostro sito, il sito del Distritto Urbano del Commercio www.pavialcentro.it www.pavialcentro.it